Ecco, allora buonasera, buonasera e grazie di essere venuti, di essere così numerosi, c'è una strana aria stasera a Roma, mi ha colpito, quindi mi fa molto piacere trovarmi in questo luogo caldo, bello, stupendo, mi rasserena. Grazie a Leonardo e a tutta la scuola di Molly Bloom, questa scuola di scrittura creativa, per avermi proposto questo lezio e grazie a Francesco Moschini delle bellissime parole sul mio libro. Allora, io ho portato l'orologio e andiamo. Allora, qual è l'origine di questa lezione? È nata un po' così, a caso, lì per lì. Mi trovo a Princeton, dove insegno scrittura creativa e anche traduzione. È il 13 ottobre dello scorso anno e sto andando a piedi verso l'università. E ricevo un messaggio sul cellulare, su WhatsApp, da una mia amica italiana, si chiama Tiziana Rinaldi Castro, è una scrittrice, tra l'altro, anche lei. Sta per uscire un suo nuovo libro, si chiama Come della Rosa, esce per FG, prossimamente, quest'anno, in primavera. Ve lo consiglio. Comunque, ricevo questo messaggio. Controllo, e c'è scritto, cara, il nostro amato bardo Bob ha vinto il Nobel, con tre punti esclamativi. Tanti, insomma, fiori e maniche, tutti simboli. Io ne resto stupita, così contenta, e praticamente volo verso il campus. Arrivo in classe, alle nove, e dico, urlo praticamente agli studenti, siamo pochi, avete saputo questa notizia? E loro, così. Allora, ma avete mai sentito nominare Bob Dylan? Ah, per la pace ha vinto? Mi chiede uno. Allora, a questo punto capisco che io ho una certa formazione e loro ne hanno un'altra. E questo è normale. Però, ho deciso, il giorno dopo, quel giorno, lo stesso giorno, di far conoscere ai miei studenti, ai miei studenti, questo, questo, quest'artista, così importante, è per la mia formazione da scrittrice. Allora, il premio, come diceva Leonardo, suscita polemiche, polemiche fa scolpore, ci sono, no? Quelli a favore, quelli contro, eccetera. Io, inutile dire molto a favore, e quindi ho deciso di dedicare una lezione a Bob Dylan. Per prima cosa, perché quando ho conosciuto io le canzoni di questo immenso, questa figura gigantesca, oltre la musica, ho capito cosa vuol dire raccontare una cosa, perché tante sue canzoni sono racconti, racconti brevi ma anche di spessore, racconti che mi fanno pensare ancora oggi, quando ascolto un album di Bob Dylan. Sono stata influenzata anche da un mio professore quando facevo il dottorato a Boston, negli anni 90, questo professore si chiamava Christopher Ricks, è un genio, è un professore proprio brillante, e ha scritto un libro pubblicato nel 2004, si chiama Dylan's Versions of Sin. Non credo che sia stato tradotto in italiano ancora, ma in sostanza dice che Dylan è un grande poeta, e lega Bob Dylan a un taglio indiscutibilmente letterario, cioè analizza le canzoni e più che altro il linguaggio di Bob Dylan per valutare proprio la poetica di questa voce, e dice questo Christopher Ricks che sostiene che lui faccia parte di una vasta costellazione di altre voci visionarie, tra cui Milton, Don e anche la Bibbia. E io sono d'accordo, ma oltre che la poesia, credo che sia anche un... lui è una chiave per la prosa, per me, personalmente. Quindi decido di dedicare una lezione a una canzone che io trovo molto potente, molto bella, e ogni volta che l'ascolto mi commuovo. Soprattutto perché il senso di questa canzone mi sfugge, sempre, un pochino. È una canzone enigmatica, molto energica, è una canzone d'amore, è anche una canzone dolorosa, infelice. E l'andamento mi colpisce, nel senso è una canzone estesa, ma anche molto sintetica. E quindi c'è questo respiro un po' paradossale, scusate, che mi interessa molto. e la canzone si chiama Isis. Ed è stato interessante perché, purtroppo, i miei studenti sono giovani, sono americani, e chiedo allora, quando dico Isis, cosa viene in mente? E tutti, purtroppo, hanno detto, no? Fa pensare a un terrorista. e quindi, di nuovo, è stato ancora più importante andare al di fuori di questo momento duro, difficile, per il nostro mondo, e parlare di questa canzone. Quindi, ascoltiamo la canzone. Meno male che sono venuta a vivere a Roma, perché ho imparato tante, insomma, espressioni importanti, tra cui, ammazza. E quindi, quando ascolto adesso Bob Dylan, quando ascolto Isis, mi viene in mente proprio la parola ammazza che canzone. avrete notato questo ritmo regolare della canzone, questa cadenza prevedibile. E allo stesso tempo, il contenuto di questo racconto, la vicenda, lo svolgimento, è anzi molto imprevedibile. Quindi, parliamo di questo. Prima, però, un po' di contesto. Allora, questa canzone si trova, lui scrive, Bob Dylan scrive questa canzone in collaborazione con un'altra persona, si chiama Jacques Levy, nel 75. e si trova su Desire, l'album si chiama Desire, che è il dicesettesimo album di Bob Dylan, che esce l'anno dopo, nel 76. Di cosa si tratta, più o meno? Cosa possiamo, cioè, cerchiamo un modo di cogliere, più o meno, gli elementi di questa vicenda. Abbiamo un protagonista, l'io narrante, si tratta di un matrimonio, è subito una separazione, pare che sia subito, c'è una fuga, questo marito se ne va, è lei che lo caccia via o lui che abbandona la moglie, non si capisce, questo è un punto interrogativo. C'è questa avventura malandata, con un altro, con questa figura, un po' misteriosa. Quindi, abbiamo tre personaggi, i due uomini, questi due, vanno in, alla ricerca di un, un tesoro, ok? C'è questo complotto, vogliono rubare qualcosa, non va, non va bene, questa, questa iniziativa, e nel frattempo, c'è tanto, c'è, c'è un ricordo, il rimpianto, del protagonista. C'è una morte, c'è una sepoltura, e poi c'è un ritorno e una riconciliazione. Questo è il quadro, più o meno. Se voi andate online a cercare, ci sono mille ipotesi, interpretazioni di questa canzone, giustamente. C'è, può darsi, può darsi che ci sia un elemento autobiografico, e siccome Bob Dylan si separava, in questo periodo, dalla moglie, Sara, c'è, certamente, una valenza allegorica, ci fa pensare all'odissea, questo, no, questo marito, che se ne va, poi, ritorna, alla moglie, c'è la mitologia, egiziana, abbiamo Isis, Isis, questa dea, è una dea, no, è una dea, la dea della natura, e ci sono, ci sono qualche altro elemento, secondo me, importante da sottolineare, c'è la natura, questo gelo, c'è anche il sole, quindi il contrasto tra il freddo e il caldo, il gelo, la neve, il ghiaccio e il sole, e poi mi interessa anche il terreno proprio fisico, geografico di questa canzone, lo spazio, i piramidi, c'è una tomba, e poi questo luogo sconosciuto di cui parla, io cito in inglese forse la canzone che ho sotto mano, questo wild unknown country, no, cosa vuol dire questo spazio, dove lui, no, lui va, verso questo luogo sconosciuto, allora questi sono gli elementi della canzone, però c'è un'altra dimensione che è l'argomento di stasera, diciamo, e questa è la dimensione lacunosa, cioè quello che colpisce, dopo aver ascoltato la canzone già mille volte, che cosa succede, che cosa sta succedendo tra le righe, quali sono questi salti temporali, cosa rende questa canzone così estesa, ma anche spezzata, è il non detto, è una serie di lacune, e questa mancanza spinge tutto sempre in avanti, quindi grazie alle lacune in questa canzone sappiamo che stiamo per arrivare da qualche parte, quindi fornisce una traiettoria per la canzone e rende il testo di questo racconto, di questa canzone, sia veloce che incalzante, nonostante la dilatazione, perché è una canzone diciamo lunga, di sette minuti, mi sa, quindi c'è questo respiro un po' più lungo del solito, però ha un andamento fortemente discontinuo e anche circolare, nel senso iniziamo con Isis on the fifth day of May e così finisce questo racconto, io dico sempre racconto perché lo è, quindi di nuovo on the fifth day of May si ritorna, quindi questo, questo circolo, però è grazie alle lacune che la canzone attraversa il tempo e lo spazio. Allora andiamo, cerchiamo di leggere questa canzone con quest'ottica, esempi, subito, leggo in inglese e potete seguirmi anche in Italia o anche sotto mano la traduzione. Ok, quindi I married Isis on the fifth day of May e subito but I could not hold on to her for very long. Allora come abbiamo, come si fa ad arrivare alla seconda riga? è successo qualcosa in mezzo? Mi sa di sì. Poi lui se ne va e dice so I cut off my hair and I rode straight away e arriva sta per arrivare in quest'altra dimensione. Arriva la seconda stanza. Arriva non si capisce come quanto è durato il viaggio non ho io non ho la più palida idea però andiamo avanti e poi incontra questa quest'altra persona e dopo la terza stanza cosa succede? loro hanno questo questo scambio qua questo dialogo che è sempre una forma molto lacunosa ma di questo parlerò più avanti. Nella quinta stanza anche la stessa la sesta c'è un altro tipo di lacuna cioè un ricordo la memoria il passato una devianza e possiamo capire che possiamo leggere questo momento come un altro tipo ancora di lacuna un'assenza perché l'andamento del racconto si ferma per un attimo e abbiamo un buco un buco che contiene questo dialogo il passato poi se andiamo avanti l'ottava stanza queste 1 2 3 4 5 6 7 8 c'è vento the wind was howling we chopped through the night when he died di colpo questo questo tizio è morto è già morto non si capisce come quando perché e tutto siamo al buio però succede questa cosa drammatica cioè lui lui muore poi una lacuna letterale si trova qua 8 9 10 stanza 10 c'è la tomba abbiamo letteralmente una lacuna una depressione adesso andiamo avanti per approfondire questa parola questo termine dopo questa stanza il viaggio che lui fa per ritornare da Isis è cancellato di nuovo lui arriva misteriosamente quindi un altro salto un altro un altro omissione ok e subito lui arriva da lei il dialogo tra marito e moglie è estremamente lacunoso si capisce che stanno dicendo mille altre cose però lui riesce a a distilare questo dialogo in modo meraviglioso e si capisce che il dialogo è sempre una cosa artefatta mai naturale e questo è molto importante quando io ero giovane quando insomma all'inizio anche adesso anche adesso ma sempre scrivere un dialogo convincente non è facile non è non è non mi è sempre chiaro e devo togliere cancellare sottrare giocare con con questa forma per arrivare a un dialogo convincente sembra che sia naturale ma non lo è quindi diciamo che in questa canzone ci sono tanti esempi di questo concetto la lacuna l'assenza secondo me la canzone parla cioè se vogliamo allargare un po' il campo per parlare un po' dei temi di questa canzone parla anche del silenzio cioè il non detto in un matrimonio il silenzio dell'amore che è un tema molto forte e la canzone per me parla anche parla anche di questo silenzio mi viene in mente le opere di Bergman di Antonioni no? grandissimi che hanno dedicato tanti tanti loro film proprio a questo questo tema il silenzio in un in un matrimonio tra due persone insomma il silenzio che fa parte dell'amore io direi anche che l'assenza del marito cioè il suo viaggio o per scelta oppure perché lei lo caccia via non si capisce è un altro tipo di lacuna cioè lui se ne va e questa assenza questa assenza si può leggere come se fosse una sorta di lacuna e finalmente questo questo spazio questo luogo il suo traguardo questo wild unknown country per me di nuovo è una lacuna perché non esiste non esiste perché